Amici amici di Vono of Right, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi a Palazzo di Città per l'assediamento di Disability Manager con Marco Giusta. Buongiorno. Vorremmo chiederle, com'è questa giornata? È una giornata a lungo attesa, possiamo dire, nel senso che la figura del Disability Manager l'avevamo richiesta a inizio mandato, tramite degli ordini del giorno anche in Consiglio Comunale, era una figura già presente ma abbiamo impiegato molto tempo per provare a ridisegnarne i contorni con le associazioni di persone con disabilità, in modo da avere una persona che non solo si occupi di pratiche positive all'interno della macchina comunale, quindi all'interno dell'amministrazione, ma una persona che valuti e possa suggerire delle buone azioni che il Comune può fare nell'interesse dell'intera cittadinanza. Quindi abbiamo fatto questo percorso per costruire questa nuova figura, che è un po' quasi un'autorità sul tema della disabilità, mi viene da dire, e grazie all'avvocato Franco Lepore, che poi si è candidato per svolgere questo ruolo, abbiamo finalmente questa figura insediata. Oggi inauguriamo i locali in cui questa attività verrà fatta, che sono locali in via Palazzo di Città, sono pienamente accessibili, totalmente fruibili e all'interno di questi locali le persone potranno incontrare la figura del Disability Manager, andare a raccontare delle difficoltà o delle situazioni che in qualche maniera possono vivere, ma soprattutto suggerire e segnalare delle politiche o delle mancanze di politiche su questo tema. Quindi diventerà un po' un organo quasi consultivo sul tema della disabilità nei confronti della città. Grazie mille, grazie di essere.